Ben tornati su C per TV, siamo arrivati al 15 aprile 2019, oggi è lunedì e apriremo la settimana con un team WOD, anzi con un team MARF. In team da due avremo 800 metri di corsa che dovremo correre tutti insieme e poi 10 round fatti da 10 pull up, 10 push up e 30 squat. I round sono nello stile I go, you go e poi per chiudere un kishout di 800 metri tutti insieme. Come al solito pesi e scalature sulla grafica qui di fianco, ci vediamo domani per un'altra puntata insieme di C per TV.